Siamo particolarmente contenta di avere qui in studio con me un collega, un amico, Paolo Colombo, compagnia Baistrochi. Ciao Paolo! Ciao Tiziana, grazie anzitutto per l'ospitalità e grazie a te a Primo Canale. Allora, insieme per parlare di due giornate, due serate anzi, uniche, perché la Baistrochi arriva al Teatro Carlo Felice di Genova e lo fa per sostenere la Croce Rossa. Sì, sono due date importantissime per noi, importante anche questo debutto assoluto al Carlo Felice. Ricordiamo che la nostra è la compagnia più antica d'Italia con 110 anni e proprio quando venne fondata da Mario Baistrochi all'epoca si esibirono il vecchio Carlo Felice, quindi abbiamo già una premiere che è stata nel secolo scorso. Noi ci ritorniamo col Carlo Felice nuovo, siamo orgogliosi di questo, quindi grazie alla fondazione del Carlo Felice, la Croce Rossa che ci ha voluto a tutti i costi e grazie anche alla Regione e al Comune che hanno sostenuto questa iniziativa. Sono, come hai detto tu, due appuntamenti molto importanti, sabato sera alle 21, domenica pomeriggio alle 16, perché il ricavato dello spettacolo andrà alla House of Heroes, questa casa che dal 1983 ospita i piccoli pazienti del Gaslini ma soprattutto ospita i loro genitori ed è stata fondata e sostenuta dalla Croce Rossa. Sappiamo che sono circa 60 le associazioni che contribuiscono ad aiutare il Gaslini che è conosciuto in tutto il mondo, quindi per noi era importante fare un qualcosa anche per i piccoli che soffrono, perché da sempre la Baistrochi fa beneficenza. E quindi saranno due appuntamenti importanti dove speriamo di far divertire il nostro pubblico. Allora, intanto ricordiamo ai telespettatori come fare quindi per venire a vedere, perché poi qualcuno lo sa, è sempre a casa, magari un po' distratto, allora ricordiamo i giorni, gli orari e ancora una volta questa eccezione, perché poi uno diceva ma la Baistrochi, ma la Baistrochi è il Carlo Felice, e sì, è proprio possibile in quest'anno speciale per la Baistrochi ovviamente. Sì, perché noi facciamo 110 anni, quindi è un appuntamento importantissimo, come ho detto prima, la compagnia teatrale più antica d'Italia ancora in attività, quindi sabato alle ore 21, i biglietti si possono acquistare tutti i giorni presso la biglietteria del Carlo Felice dalle ore 9 alle ore 19, si possono anche acquistare su Viva Ticket, quindi se avete un computer, siete tecnologici, potete anche scegliervi il posto direttamente da casa, e poi lo secondo spettacolo sarà domenica pomeriggio alle ore 16. Vi aspettiamo in tanti tantissimi perché c'è bisogno di sostenere questa iniziativa fuori della Croce Rossa. Saremo anche ai mercatini di Natale, quindi vedrete in giro anche le bancarelle della Croce Rossa, quindi se li vedete fermatevi che potete anche acquistare i biglietti lì. Tra l'altro, no no, figurati Paolo, la nostra regia ci stava facendo vedere insomma un po' di immagini, no, non spoileriamo nulla perché è lo spettacolo che abbiamo visto, ma che molti invece magari non hanno avuto occasione, oppure proprio perché... Questo ha proprio i 110 anni, quindi avrete beccato anche le immagini giuste, brava Tiziana. Eh, Massimo Ligi, Massimo Ligi riesce a fare dei miracoli. Tra l'altro insomma è occasione per chi magari l'ha visto qualche mese fa rivederlo per beneficenza. Quali sono le caratteristiche di questo spettacolo? C'è anche, credo, no, qualcuno che ti assomiglia un po' in questo spettacolo, o no? Vabbè, io sono sul palco ormai da cinque anni, quindi mi vedrete in vesti da grandissima subrette, grandissima nel senso di peso, una subrette di peso, visto i cento chili di stazza. Poi, vabbè, c'è il balletto classico, si chiude sempre nel calcan, ci sono... Eh, ma lì vedo, eh, vedo che c'è una somiglianza lì. C'è una somiglianza, le fattezze sono quelle. Beh, si può dire a questo punto cosa faccio? Vabbè, sì, insomma... Lo dici tu? No, dillo tu. Lo dico io, è quella che vedete a fianco del nostro autore Quistelli, e la Drusilla, versione made in Genoa, quindi mi tocca interpretare anche Drusilla con questa pettinatura. La parrucca adesso è dai parrucchieri perché deve essere rilavata, tutta riacconciata per bene. I pantaloni ti piacciono, se ti piacciono ti ripresto una volta. Sì, vorrei avere 30 centimetri in più, diciamo, di altezza, però semmai facciamo fare l'orlo. Facciamo fare l'orlo, Paolo. Senti un attimo, allora, 2 e 3 dicembre, non posso farti andare via però senza farci dire qualcosa per il futuro. Per il futuro vogliamo spoilerare il titolo della prossima. Dai qualcosina, Paolo. Allora, sarà una vai strocchi che andrà in crociera, è il nuovo regista che Luigi Traverso l'ha chiamata Crociera Gorialdica in Due Tempi, e il titolo sarà, o è, scegliete voi il verbo che preferite, di poppa o di prua, quindi uno può scegliere se è in crociera stare di poppa o di prua. Però l'importante è che vignate adesso a queste 110 Agnos che fiesta, perché sarà una festa che coinvolgerà poi anche tutto il pubblico del Carlo Felice, perché ballerete con noi, perché oltre alla Drusilla ci saranno cantanti che hanno fatto la storia della canzone italiana. Li vogliamo dire? Vai, hai 30 secondi. Ricchi e poveri su tutti, che fanno ballare la platea intera. Assolutamente, allora grazie a Paolo Colombo, grazie alla Baistrochi, mi raccomando in massa al Teatro Carlo Felice il 2 e il 3 dicembre prossimo per la Croce Rossa e per questo progetto. Ah beh sì, la regia ovviamente mi dice Paolo, la Carrà è immancabile. La Carrà sta va a sandire con il nostro Olivari che è il presidente, la Carrà c'è sempre. Va bene, senti, chiudiamo così, con 30 secondi con lei, dai vai. Grazie Paolo. Ci aspettiamo a te. Pallo, 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 pallo da capogiro, pallo, pallo, pallo senza respiro, pallo, 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 mi invento un passo che fa così, fa così, fa così. Pallo, 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 pallo da capogiro, pallo, 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 pallo senza respiro, pallo, 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 mi invento un passo che fa così, fa così, fa così. Forza, forza, forza su una terrazza, porta, porta, porta.